set pulizia nato custodia in cordura chiusa tra i bottoni automatici attacco tipo alice in metallo da cinturone o sullo zaino ovunque voi vogliate agganciarlo doppia chiusura bottone automatico e velcro per non perdere gli oggetti al primo sul primo settore sulla prima tastina troviamo uno spazzolino di pulizia a doppie da setole sintetiche in tecnopolimero verde piccolo e grande un'ampolla per lubrificare in nylon semi rigido con beccuccio a vite poi mettiamo gli scovolini metallici per pulire l'arma due scovolini metallici attacco in ottoni infine abbiamo la stecca vera e propria interamente montabile allora se ci interessa pulire solamente una pistola possiamo utilizzarla o un'arma molto corta in questa maniera avvitando direttamente l'anellasolina metallica e poi mettendo uno straccetto oppure possiamo avvitare uno degli scovoli in dotazione se altresì abbiamo armi più lunghe possiamo arrivare e avvitare a una notevole lunghezza è semplicissimo non richiede grosse difficoltà per montarlo come vedete la lunghezza dell'asta interamente metallica nera antiriflesso facile da dismontare facilmente disponibile nella propria questa è anche la più corta il corto pezzo che per fare delle lunghezze intermedie come vedete potete notare il particolare attacco la maniglietta è reclinabile ed alloggia direttamente nell'asta di modo che non da ingombri eccessivi la maniglietta è sovrapposta la maniglietta è essenziale sono e la maniglietta è stata da iniziare attrazione la maniglia di daros è stato un'azondazione attrazione ora la maniglia di darare nella maniglia di darate